Finisce in un'interpellanza del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari il tragico incendio avvenuto in una struttura per degenti di psichiatria all'interno del complesso sanitario Villa Serena di città Sant'Angelo in cui il 20 maggio scorso sono rimasti uccisi due pazienti. Un incidente sul quale tutta la politica dovrebbe interrogarsi. Fatta salva, dice Pettinari, la specifica sfera di competenza esclusiva della magistratura. Sul fatto è in corso un'indagine della Procura della Repubblica di Pescara che dovrà accertare le responsabilità penali. Ma quali sono quelle amministrative e politiche dell'incendio divampato in un reparto della clinica privata? Sono stati rispettati tutti i parametri di sicurezza nella struttura accreditata dalla Regione Abruzzo? Queste le domande poste dal consigliere pentastellato in aula questa mattina. Non si possono affidare dei pazienti a una struttura di cura psichiatrica e poi scoprire che sono morti carbonizzati. Ecco, questo è il grido di ogni cittadino abruzzese e io mi devo far carico naturalmente di riproporlo alle autorità competenti, in questo caso della Regione Abruzzo. Io con la mia interrogazione ho chiesto che cosa è successo quel giorno. Come mai due pazienti ricoverati nella struttura privata che si occupa di malati psichiatrici sono morti carbonizzati? Ecco, ci sono tutte normative antingendio particolari sulla sicurezza che una casa di cura dovrebbe rispettare. Il nostro dovere, quali amministratori regionali e il Governo regionale, indagare e capire che cosa è successo sotto l'aspetto amministrativo. Domande alle quali ha risposto in Consiglio regionale l'assessorato alla sanità Nicoletta Veri, che all'indomani dell'incendio inviò gli ispettori regionali per le prime verifiche. Ma chiarezza la vogliamo tutti, in modo particolare il Dipartimento dell'assessorato alla sanità. Io in persona, appena accaduto l'incidente, mi sono recata sul luogo, ho immediatamente inviato le verifiche ispettive da parte della Regione, ma soprattutto da parte del Servizio di Previdenza della Alse di Pescara. I pazienti morti erano a carico del Dipartimento della Salute Mentale della Alse di Chieti. Abbiamo avviato tutte le procedure per la verifica dei requisiti strutturali, ma soprattutto abbiamo anche verificato che in questi anni è stato svolto anche un controllo per ciò che riguarda i requisiti sulla sicurezza del lavoro. Adesso aspettiamo ulteriori risposte in seguito all'indagine e alle richieste della Procura.